Siete tristi mentre state andando a fare la spesa? Siete tristi mentre mangiate la spesa? Siete tristi mentre fate la spesa? Siete tristi mentre caricate la spesa? Siete tristi mentre fumate una sigaretta dopo la spesa? Non disperate, c'è una soluzione. Opinione di Luzio. Luzio la fa più meglio. Usare il nusabile. Che fai la faccia triste? Anche io guardo Opinione di Luzio. Segnarazione al Consiglio dell'Ordine. Dai vai. Anche io quando non lavoro guardo Opinione di Luzio.